Salve a tutti, oggi voglio inaugurare la sezione dei video dedicata ai recuperi elettronici del canale. Che cos'è che andremo a vedere nei video dedicati a questa sezione? Beh diciamo che per poter realizzare i nostri progetti o per poter realizzare schedine elettroniche o dispositivi di qualsiasi tipo abbiamo bisogno delle materie prime che se ci pensate un attimo sono davvero tante. Basti pensare ai banalissimi fili elettrici per le connessioni a componenti più specifici come condensatori, induttori, resistenze, attivi, transistor, mosfet e per poter reperire queste materie prime si può fare solo in due modi, o andandole ad acquistare oppure andandole a recuperare, a riciclare da vecchi elettrodomestici, vecchi strumenti elettronici, vecchie schedine e quindi smontarle e poi riutilizzarle in seguito. La seconda scelta ovviamente è quella più economicamente vantaggiosa. Infatti molti componenti sono davvero costosi e se si riuscissero a recuperare, se si sapesse dove si trovano e quindi recuperarli sarebbe davvero un ottimo toccasana per il nostro portafoglio. Ma infatti molte volte la vera difficoltà non è la manganza di volontà di voler riutilizzare questi componenti, diciamo la manganza di volontà di risparmiare, ma il fatto che non sappiamo dove si trovino questi componenti negli elettrodomestici, negli strumenti che ci circondano nella vita quotidiana e quindi non sapendo dove si trovano, non sappiamo dove andarli a cercare. E molte volte troviamo oggetti o bottiamo via oggetti al cui interno ci sono componenti che a noi servirebbero, ci tornerebbero molto utili, ma non sapendolo non possiamo recuperarli. Quindi questi video saranno dedicati agli oggetti che trovo e che non sono più funzionanti, andremo a smontarli e vi farò vedere cosa si può trovare al loro interno. Per inaugurare la sezione quindi ho deciso di iniziare da questo vecchio ventilatore che ormai non è più funzionante. Ho iniziato lo smontaggio ed ecco qui la parte di nostro interesse, ovvero tutti i componenti che possiamo recuperare si trovano nella parte della testa del ventilatore. Continuo a smontare. Ecco il condensatore quindi si capisce già quali saranno le parti principali ovvero questo, questo e questo sono i componenti di nostro principale interesse. Ho ultimato la fase di smontaggio ed ecco qui cosa abbiamo recuperato? Abbiamo la presa, il selettore e questo condensatore da 1,2 micro farad 450 volt ed è un MKP. Non è un grosso bottino e il motore non è funzionante quindi a parte il nucleo di lamelle di acciaio e silicio non si può recuperare nulla dal motore quindi basterà tagliare i fili qui e portarsi via solo il condensatore. Più o meno il valore di quello che abbiamo recuperato è di circa un 5 euro, un 2 euro di presa, un euro di pulsante e lui invece è bello costoso perché può anche portare parecchi ampere. E' un bel condensatore che c'è qui quindi lui ha parecchio valore. Molto bene quindi ora sappiamo cosa è possibile recuperare da un ventilatore. Per questo video è tutto, alla prossima!